Ciao a tutti, sono Alessia e vi parlo del Grandis di Cuneo, in particolare del corso sociosanitario. Sicuramente prima di scegliere questo corso dovete essere consapevoli del fatto che lavorerete insieme alle persone e che in qualche modo dovrete prendervi cura di loro. Infatti queste basi vi saranno sicuramente trasmesse dalle insegnanti e dalle materie come l'anatomia e la psicologia, insegnate egregiamente in questa scuola e vi forneranno delle vasi fantastiche per il lavoro in ambito sociosanitario. Proprio grazie a queste vasi io ho intrapreso il percorso delle scienze infermieristiche all'università dove molto spesso ho ritrovato concetti già studiati e già presi proprio al Grandis e quindi è stato un enorme aiuto per me. Quindi mi raccomando il Grandis è una scuola fantastica ma fate la scelta con la vostra testa e ben pensata. Buona fortuna a tutti! Ciao ciao!